La Giunta Marsiglio seppellisce di fatto il progetto per la riqualificazione della strada Loreto Penne, fondi destinati a Tortoreto per il Giro d'Italia quando i lavori per il lungomare erano già stati appaltati. Così il consigliere regionale del PD Antonio Blasioli. In una seduta del Consiglio dei giorni scorsi, infatti, Blasioli ha segnalato come i 250.000 euro destinati dalla Giunta Marsiglio a Tortoreto per il Giro d'Italia, siano stati sottratti dai fondi europei del Master Plan che in origine erano indirizzati alla realizzazione di un'importante infrastruttura stradale, Loreto a Pruttino Penne. Sicuramente si può parlare di una procedura viziata, viziata perché il 9 di aprile, con una delibera di giunta, la giunta regionale sottrae ulteriori 250.000 euro alla Penne Loreto per il rifacimento del lungomare di Tortoreto con la giustificazione che sul lungomare doveva passare il Giro d'Italia, come in effetti è passato. Il problema è che, a differenza di quello che scrive il Presidente Marsiglio su una sua lettera indirizzata agli uffici e cioè per permettere lo svolgimento in sicurezza della corsa, in realtà quest'opera era stata già deliberata a novembre del 2018, il che significa che con l'approvazione del progetto esecutivo già c'era la provvista economica di 604.000 euro per poter effettuare questi lavori. Ecco che questo che è successo ci appare sicuramente una procedura viziata, ma sicuramente una marchetta di tipo propagandistico nei confronti del Terramano e in particolare del Comune di Tortoreto che va a prendere i soldi invece in una infrastruttura fondamentale che aspettiamo dal 2001, che è la Penne Loreto, che servirebbe per collegare l'entroterra Vestino con la Costa, un'infrastruttura molto importante che ha avuto anche delle vicende giudiziarie su cui l'amministrazione regionale di centrosinistra a guida del Presidente D'Alfonso aveva investito ben 7 milioni di euro con i fondi Masterplan. Ma i fondi non ci sono quindi? Ecco questa è una bella domanda perché ci consente di dire che i fondi Masterplan invece ci sono, perché se vengono utilizzate per opere che vediamo quotidianamente significa che questi fondi sono certi, sono già arrivati in regione Abruzzo, il problema è che sulla Penne Loreto hanno già tolto 2.250.000 euro per rifare asfalti già previsti. A questo punto resta da sperare che il giro passi per quelle zone vestine affinché l'opera venga realizzata. Di sicuro Blasioli presenterà un'altra interpellanza nelle prossime sedute del Consiglio regionale.